Bentornati a Talk Sicilia. Il 16 settembre dell'anno scorso Fratel Biagio Conte lasciava questo mondo rivolgendo il suo sguardo all'altissimo. Ci sembra giusto, a un anno di distanza, alla scomparsa di quel missionario laico che tanto ha fatto per gli ultimi e i diseredati di Palermo, lasciando un segnale tangibile fortissimo dalle nostre coscienze, diceva appunto ci sembra giusto iniziare a ricordarlo. E lo ricordiamo oggi con un suo amico particolare, un amico a quattro zampe che in tante occasioni della vita di Fratel Biagio è stato presente per presentare Paolino, il giovane cane, un Cavalier King di cinque anni che sin da quando era nato era diventato uno dei migliori amici di Biagio Conte, sembra una storia surreale ma vi assicuro cari amici che è andata esattamente così. Siamo con Giuseppe Vizzolo che è, non dico il proprietario, il papà di Paolino, diciamo le cose correttamente. Io praticamente questo lo identifico come il mio figliolo perché io figli maschi non ne ho, ho solo figli e femmine, nipoti e nipotina di 19 anni pure, sono molto felice della mia famiglia. Allora tutto parte che a Palermo… Facciamo un piccolo breve ripeto, tu ci hai spiegato qual è il tuo rapporto con Paolino, molto fisico. Ora a questo punto per fare capire a chi ci segue perché Paolino è venuto qui con noi a ricordare Biagio Conte a un anno la sua scomparsa, ci racconti come nasce l'amicizia tra Biagio Conte e questo splendido cucciolo di Cavalier King? Allora questi cuccioli di Cavalier King hanno una peculiarità, che sanno fare del bene, non lo so come, sono fatti loro, ad esempio i bambini autistici che sono fuori dal mondo, appena vedono un Cavalier King si ci mettono a giocare. Quindi possono avere anche una funzione terapeutica? Assolutamente sì. Allora il rapporto da Federbiaggio da dove parte? Parte che in quel tempo al Castello Amala a Palermo c'era una rettoria dei Cavalieri Templari moderni federiciani. Che cosa facciamo noi Cavalieri Templari? Quindi per capirci, tu sei un Cavaliere Templari, neotemplarismo. Certo. Che cosa facciamo? Al tempo delle crociate difendevamo i pellegrini che venivano trucidati dai Serraceni. Adesso facciamo del bene. Quindi siete sostanzialmente una compagnia, un gruppo che... Una confraternita. Una confraternita, esatto, è il termine corretto, che si occupa di solidarietà. Facciamo del bene a 360 gradi, siamo francescani e non chiediamo nulla in cambio, ma ne gioisce solo il nostro spirito. Perfetto. Quel tempo eravamo con il mio priore, il Cavaliere Alfredo, lo giudice di Palermo, e stavamo guardando la televisione e abbiamo visto fratello Biagio sotto i portici della stazione, disteso sopra un cartone che non voleva né mangiare né bere. Allora... Io, diciamo, ti devo interrompere, è sempre meglio essere dialogici in questo... Tocca, è dare sempre a chi ci segue le informazioni precise, anche per collocarle temporalmente. E quello che sta raccontando Giuseppe è l'episodio che risale al 2018. Certo. Quando a Palermo muoiono per la strada alcuni senza tetto, e fratello Biagio, che già da tanti anni aveva fondato la fondazione Speranza e Carità, la missione di Speranza e Carità, si rende conto che bisogna dare uno schiaffo alle istituzioni molto forte, perché la situazione di senza tetto a Palermo stava diventando estremamente grave e pericolosa. E allora lascia la missione, fratello Biagio, e va a dormire. Qui abbiamo anche le immagini che stanno scorrendo in regia. Va a dormire sotto i portici delle poste centrali di Palermo, facendo anche uno sciopero della fame e della seta. È una cosa molto forte per un fisico già, come dire, usurato, come quello di Biagio, che da sempre praticamente ha esposto il suo fisico a un calvario. Quindi, siamo nel 2018, e voi cavalieri templari, confraterni di cavalieri templari, decidete di intervenire. Io propongo al mio priore di andarla a trovare con Paolino, perché Paolino è predisposto a queste cose, a convincere le persone con il suo sour faire, usiamo questa parola francese che ci sta, perché lui è un nobile, infatti si chiama Cavalier King, proprio è un nobile inglese, e gli è stato dato da un re del tempo, questo appellativo. Allora andiamo con il priore sotto i portici. Lui in maniera molto soft, si avvicina a fratello Biagio. Tra l'altro Paolino è a pochi mesi, era cucciolo, cucciolo, cucciolo. Sì, era piccolino, però è dalla nascita predisposto, questi sono affare del bene, perché vogliono del bene e ne danno tanto. Allora praticamente si avvicina, piano piano, e comincia a dargli dei bacetti, i bacetti che da lui sono con la linguetta, e ha cominciato piano piano ad avvicinarsi, a fargli le coccole, fratello Biagio appena l'ha visto, è rimasto un po' comodici, mi stanno toccando nel vivo, perché lui è molto sensibile, come sono io, per queste creature del Signore, giusto? E allora piano piano lui gli si è avvicinato, fino a quando fratello Biagio si è messo seduto, l'ha preso in braccio, e frase storica ha detto, Paolino tu solo mi capisci. E questa frase allora è stata represa dal Rai3 ed è venuta su YouTube. E molte persone mi fermavano, pensate, mi dicevano, ma è lei il papà di Paolino? Sì, sì, dico, ma quante persone mi fermavano? Tra l'altro, diciamo, questo episodio convince anche Biagio Connozze a interrompere il suo... Assolutamente, sì, è successo. Quindi Paolino già ha dato un segnale molto forte. Sì, allora c'erano andati i prelati della chiesa, c'erano andati i sindaci, c'erano andati chiunque. Quindi dove non riuscì l'alta gerchia della chiesa, riuscì Paolino. Riuscì Paolino, il piccolo Paolino di Palermo, il piccolo Cavalier King. Però la storia dell'amicizia tra Paolino e Biagio Conte non finisce lì, perché poi nel periodo, al di là del tuo ruolo... Certo, lo andiamo a trovare ogni tanto. Ogni tanto. E ogni volta che lo vede, loro giocavano sempre insieme, fino a pochi giorni prima che fratello Biagio ci lasciasse. E allora praticamente è entrato nella stanza. Dove era? Ricordiamo il tempo. Allora stiamo... Noi sappiamo verso la fine dell'estate, no, verso l'inizio dell'estate, si viene a sapere che fratello Biagio è gravemente ammalato. E allora subito... Paolino vuole dare l'ultimo saluto a suo amico, no? Certo, subito andiamo alla missione Speranza e Carità. Lo riconoscono subito. Infatti veniamo subito su tutti i blog. Paolino ritorna a trovare il suo amico col suo papà, perché io sono suo papà. e si mettono di nuovo a giocare, eccetera, eccetera. E questo è l'ultimo... Fratello Biagio era già allo stremo delle forze, però... Sì, però lo vedeva e sorrideva quando lo vedeva. E lui ci andava in pieno del letto, non aveva la forza di prenderlo in braccio, però secondo me è stato felice negli ultimi istanti, negli ultimi minuti, nelle ultime ore della sua vita, che il suo piccolo amico andasse a dargli l'ultimo saluto. E ora che Fratello Biagio non c'è più, chi è il nuovo amico di Paolino? Continuata a frequentare la missione Speranza e Carità o questo rapporto si è interrotto con la dipartita di Biagio Conte? Io ho un sogno e lei sa benissimo che i sogni al 90% si realizzano. È stato fatto un primo film su Biagio Conte. Sì, ma ce n'è già uno che è scritto da... è diretto da Pasquale Gimeca... È stato già trasmesso e cose varie. Ora io voglio approfittare di questo che stiamo facendo adesso per proporre al prossimo produttore o regista del film la partecipazione di Paolino e i proventi della sua partecipazione saranno devoluti tutti alla missione Speranza e Carità. Quindi in realtà tu stai cercando di promuovere come attore Paolino far raccontare la storia dell'amicizia fra un uomo e un cagnolino per fare attività di beneficenza. Per portare tutto quello che lui riuscirà. Scusami una battuta, ma lo sai che questo film avrà un grosso problema? No. Perché Paolino recita come un cane. E vabbè, poi se la vedrà il regista, giusto? Cosa fargli fare, cosa insegnargli a fare, cosa fare. Perché lui impara subito. Però tu potrai ben capire che sarà una cosa molto bella. Ma sarebbe più semplice piuttosto che fare un film proprio raccontare in profondità la storia di questo rapporto fra fratel Biaggio e Paolino anche perché fratel Biaggio io ricordo a tutti la storia di questo missionario laico. Lui viene da una famiglia borghese palermitano, una famiglia di costruttori. Una famiglia abbastanza benostante. Abbastanza benostante. Abbastanza benostante. Decide di abbandonare gli studi, di abbandonare il lavoro nell'azienda di famiglia e inizia a camminare verso Assisi. Fa questa lunga marcia Assisi. Quindi è proprio sul solco del francescanesimo che inizia la vita spirituale, la missione spirituale di Biaggio Conte tra noi. Noi sappiamo che San Francesco il rapporto con la natura, con gli uccelli, fondamentali. Certo, anche io sono un francescano. Infatti ho fatto due anni di scuola materna alle suore francescane a Ribere, cinque anni dell'elementare. Perciò sette anni alle suore francescane. E ancora ricordi quel periodo? Assolutamente sì, con piacere. Soprattutto la superiore che aveva un cordone con i nodi. Ogni volta che passavamo ci dava una bella. Per farcelo ricordare... Oggi non si può fare più. Siamo nell'epoca del cancer culture, politicamente corretto. Però serviva. Con il senno del po' serviva. Serviva pure fare il militare che tembrava gli uomini. Non farli crescere come pappa molle. Giusto? C'è una famosa battuta, credo, che i tempi facili generano uomini deboli, mentre i tempi duri generano uomini forti. Uomini forti, non duri. Forti. Allora io perché voglio fare il primo Paolino? Perché purtroppo in quest'era comanda il vile denaro. E allora voglio, voglio con tutte le forze, far guadagnare a lui per sfamare gli ultimi. E penso che lui che ci vede dall'assù mi guiderà e gli piacerà tantissimo che suo amico farà questo. Quindi vediamo l'appello che è Giuseppe Vizzolo e Paolino, l'amico di Biagio Conte a quattro zampe lanciano al pubblico e se c'è qualche produttore che vuole imbaccarsi nel raccontare la storia di questa amicizia tra un animale a quattro zampe e il personaggio più importante della missioneria laica di questi ultimi anni, chiamate Giuseppe Vizzolo, contattate. Allora però a questo punto io vorrei aprire una finestra di questo nostro dialogo. Cioè tu non sei arrivato con Paolino per caso alla missione esperienza e carità, ma tu hai già un tuo vissuto interno che ti fa fare opere di solidarietà e beneficenza agli altri. E ci hai parlato di questa commanderia neotemplare a Palermo. Ora, io devo essere molto sincero, io sono un grandissimo lettore di Ego e quindi ho letto un po' tutti i suoi romanzi e ogni volta ricordo una battuta del pendolo di Foucault quando dice quando sento parlare di neotemplari subito mi alzo in piedi e scatto perché vedo sempre il complottismo e vedo sempre un pochettino di paranoia, mettiamolo così, non ti offendere. Assolutamente no. Perché i gruppi neotemplari ce ne sono tantissimi. Come si fa a stabilire che un gruppo è meglio di un altro o che comunque rappresenta la reale eredità di un ordine che comunque è stato sciolto nel 1400 e qualche cosa con un'azione violentissima da parte della Chiesa e da parte del re di Francia. Cioè come fai a dirti templare se non hai una filazione diretta con quell'ordine che è stato sciolto e soppresso? Ma perché è stato sciolto? Questo diciamo... Perché Filippo il Bello non aveva i soldi da restituire ai templari e allora il papa di allora era suo zio. Innocenzo. Assolutamente sì. Per non pagare tutti i modi sono buoni, giusto? E in una notte... Però non facciamo lezioni di storia. No, assolutamente no. Che cosa significa nel 2023 definirsi templare o non templare? Allora templare non si può definire con la parola, si può definire con le azioni, giusto? Con una domenica mattina con i mantelli bianchi andare a scopare una strada la più deteriorata di Palermo. Significa presidiare... questo lo fate? Assolutamente sì. Significa presidiare in certe notti dell'anno tipo Capodanno, Natale, le chiese sconsacrate per evitare che ci vanno delle persone che fanno dei riti satanici. E questo l'abbiamo fatto pure. Significa il giorno 10 settembre andare nella chiesa dei quattro coronati dove sono custodite le reliquie di Santa Rosalia e metterci sempre con i mantelli bianchi a destra e a sinistra dall'altare per preservare i preti, i religiosi, le persone di Dio dal maligno. Perché noi cavalieri templari siamo questo, noi ci definiamo la cavalleria del Signore che ci è stata sempre, c'è e ci sarà sempre. Ovunque ci sarà un templare a supporto Io però non vorrei entrare in polemica con te, ma la storia dei templari è anche la storia di un ordine sia monastico ma anche militare. Certo. La parte militare vostra è possibile che abbiate cancellata? Sì, assolutamente sì. E allora non potete più definire i templari se perdete parte delle redici originarie. Ma non esiste più la parte militare, noi siamo templari moderni, non abbiamo più il cavallo, non andiamo più alle crociate, eccetera, eccetera, noi facciamo del bene, del bene, del bene, del bene, sempre e ovunque. Se tu mi chiami alle tre di notte io non ti dico per il motivo che mi chiami, ti dico dove sei che sto venendo, che vengo in tuo aiuto. Questo è essere templari. Sempre per giocare a carte scoperte e carte in tavola. Dalla tradizione neotemplare moderna, soprattutto dallo scioglimento dell'ordine dei templari nel 1400 opera di Filippo e Bello di quella persecuzione che è passata agli annari come una... La leggenda del venerdì 13 perché non ci segue nasce proprio da lì, dalla fortuna del venerdì 13 perché i templari vengono soppressi contemporaneamente in tutte le comanderie d'Europa proprio per il giorno del venerdì 13. Ma non c'è un po' odore di massoneria, c'è, perché un pezzo della massoneria poi deriva anche dalla fenomenologia neotemplare, no? Tu sei pure massone oltre che templare o sono due percorsi antiterici? Sono due percorsi diversi e separati però che camminano sulla stessa strada perché voglio spezzare una lancia. La massoneria deviata è una cosa, la massoneria è giusta e tutta un'altra cosa. La massoneria è giusta fa quello che fanno i templari moderni. Aiutano le persone senza cercare nulla in cambio e i massoni come i templari sono ovunque, ovunque. È l'eterno rincorsersi del bene con il male. Però dobbiamo avere anche il coraggio di dire che quello che dici tu è corretto, cioè la massoneria è un'istituzione libera che non è segreta, ricordiamolo, perché dopo lo scandalo della P2 ci fu l'obbligo di divulgare gli annali, gli elenchi e quindi si può definire un'organizzazione riservata. Però il problema soprattutto qui in Sicilia al meridione non possiamo fare finta di non sapere che c'è una grandissima teoria di massoneria deviata. Le croniche sono piene, parlo della loggia di via Roma 391 dove andavano mafiosi, politici, uomini dei servizi segreti, sopra quella loggia c'era la sede dei servizi segreti militari del generale Miceri, cioè non è semplice parlare, cioè alla fine per un cronista come me che ha messo le mani in questi calderoni, c'è difficile credere che ci possa essere nella massoneria il neotemporalismo qualcosa di buono. Io ho sempre il sospetto, te lo devo dire con tutto affetto, che dietro la parvenza di solidarietà ci possono essere dei secondi fini e secondi interessi e ti faccio un esempio concreto. Negli anni 70 con i cavalieri di Malta ci fu un grande scandalo, i cavalieri di Malta che sono una filiazione diretta dei cavalieri templari. Penso per esempio ai costruttori Cassino che si presentavano con le spoglie con la stessa sostanzialmente presentazione simbolica che avete voi i neotemplari. Non c'è il rischio che poi voi veniate infiltrati da chi non vuole fare del bene ma in realtà lo fa semplicemente perché agomia il potere e attraverso queste camere di compensazione raggiunge il potere. Nei cavalieri templari no, perché ci si entra per libera scelta e perché siamo persone molto irreligiose, persone che siamo nati dentro le chiese, andiamo in chiesa spesso e volentieri, partecipiamo alle grosse funzioni con il nostro abito da templare, perciò noi andiamo. Quindi lo fate in maniera talmente palese che non c'è possibilità di... Noi ci definiamo dei buonaccioni addirittura, a differenza della massoneria che la massoneria stanno sempre riservati, ma stanno sempre riservati perché? Perché tutto quello che succede di brutto sempre ci mettono in mezzo ai massoni, non capendo che c'è una parte di massoneria buona. Non c'è dubbio. Buona, ma sul vero senso della parola, com'è che lo so io? Perché? Come cavalieri templari noi siamo dentro tutto. Noi conosciamo tutti. Quindi siete anche dentro la massoneria? No. Conosciamo i massoni. Conosce. Conosce perché? I cavalieri templari, la massoneria... Ma c'è un codice di riconoscimento fra organizzazioni diverse? Cioè come fa un massone a riconoscere un neotemplare? Da come si parlano? Da come si salutano? Da come si parla. Da come si parla e da come si ci comporta? Si capisce subito con che ha a che fare. Subito. Perché noi ci distinguiamo dal resto del mondo. Non è che mi sto vandando o sto vandando il mio ordine. Ma è così. Perché? Quando siamo stati innalzati i cavalieri abbiamo avuto delle benedizioni particolari. Ad esempio io sono stato innalzato nella basileca di San Martino delle Scale davanti al... come si chiama la massima istituzione religiosa della chiesa di San Martino delle Scale. Il priore? No, non è il priore. È il... Insomma, è la massima... Perché era presente? Perché noi siamo dentro le chiese. Ad esempio un ordine riconosciuto dei cavalieri templari dal Papa è il cavalieri del Santo... Io ti lancio una proposta. secondo me a me piacerebbe molto seguire insieme a te la vita del templare nel 2023. Secondo me quello si diventa un reportage molto interessante. Certo, va bene. Per così anche per levare un poco questa ruggine che c'è attorno a questi concetti. Allora, ci restano due minuti. Abbiamo, diciamo, un po' per colpa mia abbiamo deragliato, no? Sì. Volevamo dedicare questa puntata a Fratelli Biagio. Abbiamo parlato di altri tipi di fratellanze. Abbiamo parlato di cose buone, però. Non di cose cattive. Allora, io a questo punto ti invito da uomo comune, da uomo che ha conosciuto Biagio Conte, spogliandoti anche dall'intellettualismo positivo che c'è nel definirsi neotemplare. Un tuo ricordo in due minuti di Biagio Conte. perché è stato così importante per questa città, per questa terra? Per come si poneva le persone. Per la sua barba che odorava sempre di pulito. Per la sua persona che emanava un odore oserei dire paradisiaco, non mistico. Praticamente sapeva sempre di pulito il suo sorriso, il suo... Perché? I occhi colpivano particolarmente. I occhi particolarmente colpivano. Cioè il suo modo di fare è di porsi con il mondo. Il fratello Biagio per quanto riguarda come me non doveva andarsene. Purtroppo è stato colpito. Ma sei stato chiamato ad altissimo per noi che crediamo. Ma è stato colpito da un tumore. Questo è il fatto. Ma perché? Sai benissimo che i tumori vengono soprattutto quando vengono a mancare le difese immunitarie. E lui oggi e domani sciopero della fama. Oggi e domani sciopero della fama. Una vita di sciopero della fama. Queste difese immunitarie sono scemate con il tempo. Giusto? E peraltro in professione sei un medico quindi conosci bene l'eziologia di certi fenomeni. Infatti questo dico. Perché noi contro tutti i germi e batteri che ci sono attualmente qua e sono invisibili dall'occhio umano ci sorreggono le nostre difese immunitarie. Gli anticorpi. Gli anticorpi scemono il momento in cui tu non mangi ogni giorno non mangi proteine non mangi tutto quello vitamine tutto l'equilibrio naturale che ha il corpo. Ma io non credo che Biagio si sia avvocato al martirio lui ha usato anche il suo corpo come testimonianza verso gli altri probabilmente è stato un donarsi anche quello è stato un donarsi. Però dico se lui non si faceva mancare tutto l'avremmo qua in mezzo a noi invece ci sta guardando un compito più importante da solvere in questi giorni. Allora io ringrazio Giuseppe Paolino facciamo un bel primo piano a Paolino se è possibile guarda l'amore mio questo meraviglioso Cavalier King allora con Giuseppe ci lasciamo con la promessa di fare un approfondimento su che cosa significa essere templari oggi in 2023. Grazie Giuseppe grazie Paolino e un caro saluto a chi ci ha seguito in questa puntata un po' stramba dove abbiamo navigato tra esoterismo e soprattutto abbiamo cercato di ricordare nella maniera in cui ci è venuto possibile farlo ricordare fratelli Viaggio Conte una buona serata a tutti arrivederci alla prossima puntata di Talk Sicilia a tutti i nostri spettori